Buongiorno in apertura in questa edizione del nostro telegiornale. L'emergenza a maltempo nel metapontino in 24 ore sono caduti 142 mm di pioggia. La regione avverte l'avviso di criticità, non è ancora rientrato. Ma qual è la situazione sulla fascia ionica? Gli ultimi aggiornamenti in diretta con Luigi Di Lauro. Grazie a tutti. Il metaponto è completamente invasa dall'acqua, una situazione di assoluta emergenza e critica rispetto a quanto accaduto il 7 e l'8 ottobre scorso. Tra le altre cose a metaponto continua a piovere incessantemente e dunque la situazione potrebbe diventare ancora più grave nelle prossime ore. Intanto situazioni di crisi vengono segnalate anche nelle zone limitrofe, tra i comuni di Montalbano, Tursi, Pisticci, Bernalda. Insomma una situazione che è sicuramente da tenere sotto controllo, come dicevano anche dalla regione Basilicata, anche per le prossime ore. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Ed ora come annunciato torniamo subito a collegarci in diretta con il metapontino dove c'è per noi Luigi Di Lauro. Sì, riprendiamo la linea da Policoro. Le immagini che vi abbiamo mostrato all'inizio ci dicevano qual era la situazione al borgo di Metaponto. Una situazione davvero difficile, ma una situazione altrettanto difficile. L'ha riscontrata la collega Teresa Fabbricatore nelle campagne di Pisticci, in agro di Pisticci, tra Marconia, Lasse Basentano e Bernalda. Allora vediamo il servizio che ha realizzato la collega Teresa Fabbricatore e poi torneremo in diretta. Il trattore è nella stessa posizione del 2011, il livello d'acqua pure. Lo ricorda bene il signor Alessandro Florio, imprenditore. Sotto l'acqua sei ettari di cavolfiori, i campi ai piedi di Bernalda. Questa è la zona colpita puntualmente e nel 2011 la cosa più brutta è che io non ho visto nessuno. Quindi lei mi diceva che sono sei ettari. Sì, sono sei ettari di agrumeto, sono sei ettari di cavoli, tredici di agrumeto e poi c'è altri sei ettari al di là dell'argine, completamente sommersi. Stessa sorte per la produzione del signor Giuseppe Sisto, per la produzione del signor Antonio Montano. Il giorno dopo l'ira di Nittuno il cielo è ancora minaccioso. I danni principali, come sempre, riguardano agricoltura e viabilità. La strada che dalla 106 porta a Tinchi e a Marconia è l'unica diretta e chiusa. Lo sanno i politici, dicono gli agricoltori, che l'hanno percorsa per i loro comizi e continuano a farlo. Infatti incontriamo Nicola Benedetto, assessore regionale dell'agricoltura. La regione Basilicata ha avuto anche un po' di trambusto dal punto di vista politico. Speriamo che tutto si risolva con la nuova giunta. Dovrebbe essere una certezza, non una speranza. Sarà sicuramente una certezza perché d'ora in poi non si può più scherzare con il territorio. D'ora in poi non si può più scherzare con il territorio, anche perché quello che è accaduto nelle ultime 24 ore ha davvero dell'incredibile in una situazione che era stata già violentemente colpita poco più di 50 giorni fa. Dicevamo delle situazioni di criticità, sicuramente una di quelle che fanno più temere per l'incolumità della popolazione e delle tante aziende che sono sul territorio è quella relativa al fiume Bradano. Il fiume Bradano che anche ieri ha dato problemi seri la scorsa notte. Allora cerchiamo di capire che cosa accade e perché il fiume Bradano è sonda. Può partire la prossima testimonianza? L'onda di piena arriva all'inizio di quel ponte, diciamo sul Bradano, e comincia a imbucarsi acquistando velocità e ovviamente forza. Quel tratto là doveva essere un'argine, non c'è più. L'acqua acquistando forze eccetera se ne viene verso l'argine maestro, l'argine che corre lungo la strada comunale. E stanotte anche quest'argine, come l'altra volta, stava percependo la tiberginosa marina. Questo è quanto avviene. Normalmente siamo a 60 giorni, nessuno ha messo una pezza. Stanotte, proprio per insistenza, siamo riusciti ad avere un escavatore e atturare una falla, un fontanazzo. Pericolosissimo. Tra parentesi, bisogna scontrarsi con la burocrazia incompetente, incapace e che non vuole assumere responsabilità nel momento opportuno. Abbiamo visto quello che accade al fiume Bradano, Gianni Fabris del coordinamento Difendiamo le Terre Ioni, che è una situazione a cui si è posto un tampone la scorsa notte ma che va sicuramente rivista. Quando gli agricoltori stanno sul territorio, quando sono messi in condizioni di fare il proprio lavoro, possono contribuire in maniera determinante. Come ha dimostrato l'agricoltore col suo intervento di questa notte, nessuno ormai ha più alibi. Non c'è più alibi per nessuno. Le cose che stiamo dicendo da almeno tre anni a questa parte si dimostrano tutte drammaticamente vere. È vero che c'è un grande cambiamento del clima ma è anche pur vero che ogni volta che piove ci si allaga. E se quando piove spesso e volentieri, come sta accadendo, trova un territorio devastato, non manutenuto, con opere idrauliche sbagliate, opere ingegneristiche sbagliate, con una cattiva gestione anche delle attività produttive ed economiche, allora le comunità che vivono sono destinate a un triste destino, quello ormai di vivere con la paura. Una situazione che potrebbe peggiorare nelle prossime ore se, come sta accadendo in questo momento, a metà ponto, dovesse continuare a piovere anche perché è stata aperta una delle paratie della diga di San Giuliano. Sì, la diga, la paratia numero 5, 200 metri cubi d'acqua di portata massima, non so quante ne verseranno. Io prendo atto di due cose. Intanto di una grande capacità in questi giorni di fare informazione. I sindaci, il territorio, gli enti, la stessa stampa hanno informato l'opinione pubblica. Sarà per questo probabilmente che non ci sono stati morti. Se fosse stato così il 7 di ottobre avremmo probabilmente salvato le vite a quattro persone che si erano messe in macchina in maniera sbagliata. Ma non basta, siamo ancora lontani. È solo qualche ora che noi sappiamo, anzi, è di questi minuti che una parte importante di questo territorio sa che è stata aperta la diga, la paratia. Molti agricoltori, alcuni li ho sentiti in questo momento per avere conferma, ancora non lo sanno. Non va bene, non è così che si gestisce l'emergenza. Chiediamo trasparenza. Bene, per il momento è tutto. La linea torna allo studio, ovviamente ulteriori aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale della sera. A voi la linea.